C'era una volta a Valgrande? Sì, a Valgrande ci sono ancora le favole. Domenica 19 giugno alle ore 17 Cappuccetto Rosso sarà qui con noi. Nel contesto della iniziativa Fiabe a Merenda si potrà partecipare ad una rappresentazione per le famiglie organizzata in collaborazione con il gruppo teatrale Il Mosaico. Se siete curiosi di partecipare a questa iniziativa vi invito a fare la vostra prenotazione nei riferimenti che trovate nel nostro poster. Vi aspetto numerosi, buona favola a tutti, ciao! Grazie a tutti!